Marco Bagliani, autore, attore e regista, oggi è il Tocati per presentare il suo ultimo romanzo. Ogni volta che si racconta una storia, ci racconti un po' cosa c'è dietro questo romanzo. Non è un romanzo, è una serie di pensieri, una sorta di saggio ma non è neanche un saggio, che ruotano tutti intorno all'oralità, cosa succede quando gli esseri umani raccontano storie tra di loro e quindi si passa da un quartiere di Napoli a un ospedale, da due amanti che si parlano e si raccontano il loro amore, tutti i momenti in cui gli esseri umani si relazionano a un altro essere umano attraverso la parola parlata. Lei ha detto che le storie sono come la vita, non si sa mai che cosa ci si può aspettare. Cosa voleva dire? Beh, quello che è la vita è inafferrabile. Uno crede di poterla dirigere e governare, invece se ne va via per scorciatoie, per strade non previste. Il racconto è un po' la stessa cosa, quando uno racconta davvero non è che ha chiaro dall'inizio tutta la struttura del racconto, lo scopre raccontando, quindi scopre che quello che credeva fosse il centro del racconto magari non è il centro ma è solo una parte. Raccontare una storia si può dire anche un po' un gioco, fare un gioco, è d'accordo? Sì, fare un gioco è una cosa, forse il gioco si fa con tutto il corpo, ma il racconto si fa soprattutto col corpo più la parola. Però è una forma ludica sicuramente, quello che fa parte, non a caso gli esseri umani continuano a raccontarsi storie, perché l'unico modo per imparare a vivere è giocare, non c'è un altro. Grazie.